Il 65esimo anno di vita della nostra associazione è nata nel 48, a ridosso del secondo conflitto mondiale. A livello nazionale il WISPA si presenta alla vigilia del suo 17esimo congresso con oltre 1.300.000 soci, di cui quasi 300.000 sono organizzati nella nostra regione e oltre 53.000 dal Comitato di Bologna. Stiamo parlando di soci organizzati da leggi di specialità, settori e oltre 500 società mono e poni sportive dove operano centinaia di dirigenti e collaboratori volontari e centinaia di tecnici e distruttori. Un fenomeno ormai strutturale è imponente, una rete benedica che si stende sulla comunità contribuendo a tenerela unita e solidale con una rinnovanza sociale straordinaria che troppi danno per scontato. Una richiesta che dovrà necessariamente essere oggetto di investimenti e delle nostre future politiche. Come abbiamo detto, questo di Bologna associa e organizza 53.000 soci. Sono cittadini di tutte le età che per le più sbagliate ragioni si sono avvicinate agli impianti sportivi e alle diverse attività da noi organizzati. Abbiamo un piccolo corpo di scena perché insieme a Luca c'è anche il presidente della nostra vita e anche il presidente della nostra vita